Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza, con troppi punti oscuri che inducono i sindaci a chiedere trasparenza e chiarezza. Lo afferma il consigliere regionale Paolo Castelluccio dopo l'interruzione del servizio idrico a Policoro, Novasiri e Scanzano Ionico per l'eccessiva presenza di alcune sostanze derivanti dal cloro usato per la potabilizzazione. A parere di Castelluccio e di saggi dei cittadini, le preoccupazioni sulla salubrità dell'acqua e la salute non possono diventare una diatriba fra tecnici sulla lettura dei valori chimici. Né le autobotti che riforniscono i cittadini possono essere considerate un fatto ordinario e normale. Sono le istituzioni e gli enti che si occupano di gestione dell'acqua e dei controlli ambientali a dover dare risposte senza nascondersi dietro a un tavolo in prefettura. Diventa perciò necessario anche un intervento dell'assessore regionale all'ambiente, conclude Castelluccio, perché acquisisca tutte le informazioni, i rapporti utili in modo da riferire al più presto in consiglio regionale.